Frammentato 1 No, no, no ¡ anchorato! ¡No! ¡No, no! ¡ periodic guy Sì, sì, sì. Sì, sì. Una forma senza un nome. Un nome senza una forma. Il proiettile è veloce come il respiro. Il respiro ha la velocità di un proiettile. Trascorrere un'ora che sembra un secondo. Attraversare un secondo quando è trascorsa un'ora. Viaggiare è premiare la decisione. Decidere è ritrovarsi in viaggio. Triturare un silenzio è il delitto più grande. Aspettare il silenzio è il regalo più grande che potrei fare a me stesso. Aspettare il silenzio è vero. 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 Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. No. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Comunque sia, con il motodinamofono, un fonomisuratore che abbia un minimo di pratica può registrare agevolmente molti più suoni di quanti non ne produca il più abile dei musicisti nello stesso lasso di tempo con un analogo dispendio di energia. L'avvenire dunque appartiene alla filofonia. Comunque sia, con il motodinamofono, un fonomisuratore che abbia un minimo di pratica può registrare agevolmente molti più suoni di quanti non ne produca il più abile dei musicisti nello stesso l'asso di tempo con un analogo dispendio di energia. L'avvenire dunque appartiene alla filofonia. L'avvenire dunque appartiene alla filofonia. L'avvenire dunque appartiene alla filofonia. Schiaffo Grazie a tutti 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 Penso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un'impronta Grazie a tutti 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 Far bollire Grazie a tutti 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 Grazie a tutti